Lentini, spazio di droga, pregiudicato, trovato in casa con 21 dosi di marijuana, denunciato. Continuano senza sosta in tutta la provincia servizi finalizzati al contrasto, alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti che anche ieri hanno dato i frutti. Infatti agenti del commissione di Lentini hanno denunciato un uomo di 47 anni per spazio. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, a seguito di perquisizione personale successivamente stesa anche all'abitazione, è stato trovato in possesso di 21 involucri di alluminio contenente marijuana.